Di fronte a circa 800 spettatori il Campobasso va incontro ad una roboante sconfitta 5 a 1 per mano di un Zain Nicolò che affonda la lama nella piaga rosso-blu, specie nella ripresa. I campobassani si concedono 20 minuti positivi dopo lo sfortunato autogol di Martinelli, poi si spegne la luce, nota buona dopo due settimane di inspiegabile chiusura, riapre finalmente il bar dello stadio gestito dalla famiglia Palange. Al terzo il cross di Chimpala, la girata di Fioretti termina di molto a lato. Al settimo Novelli ha da ridire su questo fallo di De Matteis ai danni di Napolano, da cui poi nascerà l'intervento sbilenco di Martinelli, autogol del baby campobassano, un vero infortunio per i locali. Novelli incita i suoi a non perdersi d'animo, mentre all'undicesimo il sinistro di Bisegna chiama la deviazione in corner Palumbo. Il campobasso non ci sta alla mala sorte iniziale, al tredicesimo De Matteis cross stacca Fioretti, in prota anticipa Ciotti che commette fallo ai suoi danni. E calcio di rigore se ne incarica lo stesso in prota che dal dischetto è praticamente perfetto. L'attaccante si sblocca, il campobasso pareggia meglio il rosso-blu dei Teramani, al sedicesimo cross preciso di Sudant incrocia di testa Fioretti, si deve allungare Ciotti per deviare in angolo. Partita bella, sin dai primi minuti il campobasso appare in palla, alla mezz'ora va via bene Sudant, tiro cross sul primo palo sventato da Ciotti. Tegola per i campobassani, al trentotesimo troppa libertà concessa a Mozzoni che effettua un buon taglio, Traini entra in anticipo su Esposito e palla in rete. Teramani nuovamente in vantaggio senza strafare, peccato per il campobasso che è riversato in avanti sugli sviluppi di un corner a proprio favore. E' il minuto 40 quando la palla perviene a Stivaletta che la offre a Napolano, pallone restituito allo stesso Stivaletta che calcia incredibilmente fuori il possibile 3-1. Al 46esimo Kim Palanz alza per Sudant a destra, fermato, in dubbio offside, risultato che premia eccessivamente gli abruzzesi, quello del finale di prima frazione. Nessuno però all'intervallo potrebbe ipotizzare un secondo tempo assolutamente nullo da parte rosso-blu con annessa imbarcata. Ad opera del San Nicolò che realizzerà ben tre gol dalla mezz'ora in poi. All'undicesimo scorribanda di Stivaletta fermato in area da Martinelli ma il signor Catallo giudica regolare l'accaduto. Il campobasso concede metri e commette anche qualche disattenzione come al tredicesimo quando conclude con risposta di Palumbo. Due minuti ancora per l'occasione di Bisegna su cui De Mattes va a murare la propria porta. Al diciassettesimo grosso occasione per i locali dopo un rimpallo, buona coordinazione di Improta che calcia sull'esterno della rete. Al diciottesimo Epifani fa entrare Pretara in luogo di Massetti. Dall'altra parte doppio cambio di Novelli che rinuncia a due fuori quota, Martinelli e Tini per inserire Corbo e Gulin. I rosso-blu avevano iniziato con cinque fuori quota. Al ventiseiesimo tiro cross di Chimpala blocca Ciotti. La gara è apertissima e rosso-blu sono in campo adesso con quattro punte. Gli abruzzesi difendono con tutti gli effettivi. Al ventinovesimo la punizione di Bisegna si spegne a lato. I rosso-blu si prestano al gioco di rimessa avversario. Al trentunesimo Moretti lanciato dalle retrovie da Bisegna effettua un pallonetto che termina in rete. Vana la corsa di Esposito e ilusa anche la guardia del portiere Palumbo. La gara si mette davvero in salita per i campobassani. Saranno minuti da incubo per i locali. Al trentasettesimo c'è una punizione battuta da Sudan. La palla si infrange contro la barriera. Il campobasso chiede in vano un braccio di un giocatore del San Nicolò. L'azione si ribalta ed è condotta a sinistra da Bisegna che serve di Stefano il quale approfitta di un rimpallo prima su Chimpala poi della caduta di Voltasio in aria prima di trafiggere Palumbo. Siamo sul 4-1 Teramano. Novelli fa entrare Torvic per Sudan e lo spedisce a fare l'attaccante. Al quarantunesimo la sconfitta prende le sembianze di un'umiliazione per i locali. Liberissimo Moretti che appoggia alla corrente Bisegna che brucia il portiere Palumbo bucato per la quinta volta. Il pubblico incoraggia a fine gara ugualmente la squadra che saluta la Nord al termine dei 90 minuti. Punteggio pesante. Il campobasso dovrà cercare di cambiare il trend già dalla prossima partita in quel di San Marino. Nonostante questa sia una vera e propria... Grazie. Grazie.